Tra i professionisti che poi hanno il compito importante, quello di fare da Cicerone, è Maria Sorrentino, guida turistica abilitata non solo per la provincia di Latina, per la Campania, anche Napoli, anche per Frosinone. Maria, allora questo ruolo professionale che anche grazie alla tua testimonianza va rivalutato, riscoperto e soprattutto rispettato per quello che è, che è un lavoro davvero di altissimo livello. Sì, il lavoro della guida è un lavoro che a me affascina e interessa ogni giorno di più perché vengo a contatto con diverse realtà, mi piace tantissimo lavorare con i bambini, con i bambini dell'infanzia, con i bambini della primaria, con i bambini anche delle superiori perché tutti sono dei bambini. Visitare Gaeta significa per tutti scoprire dei piccoli angoli, non soltanto per la storia, per l'arte, ma basta guardare anche il golfo di Gaeta, l'aspetto di Monte Orrallando con la sua vegetazione o la montagna spaccata, la sua religione. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. In questo lavoro, quando mi trovo a contatto con i bambini, mi emoziono anche anch'io perché scopro attraverso le loro domande aspetti di Gaeta che io stessa spesso trascuro oppure non vedo più. Quindi lavorare con i bambini significa riscoprire anche il bambino che è dentro di me. Giustamente non importa avere un gruppo da 50, anche 10 bambini sono interessanti, facili da gestire, ma poi con ogni bambino entri in contatto, loro ti rimangono nel cuore e gli rimane nel cuore anche un pezzo della guida. Dirigente scolastico, la professoressa Daniela Costa che arriva da Napoli, l'84esimo circolo didattico, questo educational a Gaeta, quali sono le sue prime impressioni? Ovviamente positivissime perché siamo impegnati in tante cose abbastanza pesanti, quindi occuparsi anche di turismo scolastico per gli alunni è un aspetto importante per noi, è un momento molto piacevole, naturalmente Gaeta merita veramente perché abbiamo potuto vedere tanti beni artistici, storici, culturali e quindi oltre ad un paesaggio incantevole, quindi effettivamente è una meta interessantissima da molti punti di vista. Per quanto riguarda l'aspetto molto interessante anche questo dell'alternanza scuola-lavoro, a unire alla pratica, alla teoria, alla pratica, in un posto comunque molto vicino anche a Napoli, a livello di distanza. Certo, i miei alunni sono piccoli, però sono anche genitore di ragazzi più grandi e questo mi porta anche a osservare che i ragazzi hanno bisogno di essere stimolati con attività pratiche perché altrimenti diventa veramente pesante solo lo studio e quindi un posto come questo certamente si presta degli stimoli molto importanti perché i ragazzi hanno bisogno di immaginare il proprio futuro in modo concreto e quale posto migliore di questo perché voglio dire in tutta sicurezza con tutto quello che offre questo territorio è possibile per i giovani poter esplicare quelli che sono i loro interessi e nel frattempo immaginare un futuro positivo perché è importante dare speranze ai ragazzi e quindi ci auguriamo che questa alternanza sia sempre maggiore, insomma questo è sicuramente importante. La Tourism Learning Agency nasce da un'intuizione di Milena Mannucci da anni impegnata con i cantieri culturali per la formazione, diverse fasce d'età questo primo educational, la voglia di puntare sulla città dove si è nati, dove si continua a vivere e dove si vuole dare molto anche alla collettività. Sì, sì, io intanto do il benvenuto ai nostri docenti che hanno scelto di trascorrere con noi questo weekend per l'educational tour a Gaeta i docenti sono nostri ospiti perché li vogliamo accompagnare a vedere il nostro giacimento artistico, architettonico, naturalistico. La Tourism Learning Agency nasce da un non vuoto fondamentalmente che è la necessità di fornire alle scuole un servizio a 360 gradi. Oggi quando si parla di scuola, di istruzione non si può prescindere da alcuni concetti chiave che sono la mobilità, come dicevate voi, l'alternanza scuola-lavoro, la possibilità di sperimentare sul campo tutto ciò che si studia. Gaeta riteniamo che sia una meta privilegiata per tutto ciò che riguarda il mettere in pratica ciò che si apprende. Ma non soltanto Gaeta, tutta la rivera di Ulisse, Formias, Perlonga, Terracina, Itri, voglio dire abbiamo una ricchezza incommensurabile. Quindi noi siamo un'agenzia che è di servizio e di supporto alla scuola e ai docenti per tutto ciò che è mobilità giovanile. Diamo la possibilità anche di svolgere dei tirocini, quindi non soltanto la visita guidata che poi viene dimenticata il giorno dopo, ma una visita che resta nel cuore dei ragazzi, nella loro mente, nel loro patrimonio di ricordi e di tutto ciò che studiano. Ci avvaliamo di guide professionali assolutamente in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta. Siamo in grado anche di realizzare percorsi tematici perché dal bambino dell'infanzia, dal bambino della scuola dell'infanzia ai ragazzi delle superiori le esigenze sono tante, quindi ogni bambino per noi è una risorsa importante da sviluppare, non è un numero, non abbiamo necessità di accumulare numeri ma di incontrare, incontrare l'animo del bambino e entrare nelle sue esigenze e dare la possibilità a tutti di sperimentare una gita che sia veramente esperenziale. Perché il mondo si basa sul respiro dei ragazzi, come dice qualcuno. È vero, sì sì, assolutamente sì. Oggi si considera la gita quasi per i docenti e anche per quelli più appassionati diventa un'incombenza perché tra mille cose i docenti e i dirigenti, non ne parliamo proprio, devono cercare anche di fare la gita, quindi per loro diventa veramente un peso e si trasforma in un pesante impegno. Invece noi diamo la possibilità ai docenti di alleggerire il loro carico e di poter usufruire di professionisti competenti che possono così gestire tutto ciò che riguarda l'organizzazione della gita per tutte le scuole di ogni ordine e grado e far conoscere Gaeta. Noi proponiamo una gita a chilometri zero, come dico io, quindi basta macinare 300 chilometri al giorno per andare a visitare vette molto distanti da qui. No, torniamo ad una gita serena, camminare a piedi, guardarsi, parlare perché poi assaggiare il prodotto tipico perché se togli questo alla gita togli il cuore dell'esperienza.